Eccoci qua, finalmente è uscita la quinta stagione di Cobra Kai, salve a tutti e benvenuti Finalmente direi, dopo un'attesa di circa 9 mesi, perché l'ultima notizia abbiamo parlato di Cobra Kai è stato il 31, mi pare l'1 di gennaio, me la sono sparata completamente mentre tutti gli altri festeggiavano, se ambriagavano, se drogavano, se facevano del tutto per festeggiare l'anno prossimo, oddio mio che bello il 2022 che prenderemo nuovi cazzi in culo con rincari e guerre varie, yeah, che bello festeggiare anche quest'anno, mi raccomando festeggiate per il 2023 che poi si peggiorano le cose, ok? Mi raccomando, mi guardo intorno se ci sono ragni che è qua Oggi, sicuramente tanti di voi non sanno che io sono un grande fan di Cobra Kai perché la metà di voi si è iscritta dopo che io ho parlato di Cobra Kai la quarta stagione e oggi sono qua a parlare della quinta stagione, l'episodio 1 quindi non so cosa andrà avanti, mi raccomando non mi spoilerate un cazzo non mi dite niente perché sono costretto a bannare o disabilitare i commenti Partiamo con questo episodio che parte o mai collegato alla quarta stagione che John Cree viene incastrato dal suo carissimo amico che doveva aiutarlo a inalzare il Cobra Kai ma gliel'ha buttato dal culo e quindi ha preso il posto solo e l'ha mandato in galera Abbiamo Daniel Russo che un po' tentennato, non so cosa fare perché viene con una potenza incredibile quello c'ha un fottio di soldi può comprarsi qualsiasi cosa e si sta espandendo in una maniera incredibile Dall'altra parte abbiamo il nostro Johnny che praticamente con il figlio sta andando a cercare Miguel perché Miguel è scappato per cercare il suo vero padre perché si sente un po' spaisato dopo che quella cosa un po' bruttina mentre Johnny era umbriaco se chiamarlo Miguel l'ha chiamato con il nome del suo figlio quindi si è un po' ingelosito, si è un po' incazzato perché l'ha visto sempre come padre Allora, parlando di questo primo episodio è iniziato bene però è un po' lento forse perché siamo nella prima puntata l'unica cosa da ricominare è la regia veramente un po' di merda nel senso quando ci sono le scende di combattimento erano sempre belle chiare nell'ultima stagione cioè mi è piaciuta sempre la regia di Cobra Kai perché è sempre stata chiara io non so questa prima puntata chi cazzo l'ha girata nel senso se è sempre qualcuno della vecchia stagione che forse in questi mesi ha perso la lume della ragione non sa più ora girare un episodio ma è girato veramente male a me dispiace pure dirlo ma io sapete che sono critico non sono mai un falso di merda girato un po' male fotografie un po' altalenate mi è piaciuto questa fotografia un po' quando viene girata nel Messico questo Miguel che viene subito preso di mira da alcuni truffatori che non sono messicani a me non c'è questa cosa del razzismo è un australiano con altri quattro stronzi che non sappiamo la loro nazionalità che lo iniziano diciamo a perculare e fregargli anche dei soldi ma Miguel gli ho detto perché non combatte invece no si va più a periculo quindi è l'episodio di un po' tutto questo diciamo Daniel che vuole chiudere il mia guido perché non se la sente più perché ha detto non so troppi non voglio usare i ragazzi per questa guerra già persa in partenza perché quello c'ha tutto cioè che cazzo gli devi fare in frattempo però ha avuto una mano diciamo di qualche altro maestro che ha incontrato nei scorsi film di Karate Kid per chi l'ha visto di Karate Kid a parte quei coglioni che hanno visto Cobra Kai senza vedere Karate Kid siete dalle teste di minchia andate a vedere Karate Kid e poi vedete Cobra Kai se non ci capite una sega anche se vengono spiegate alcuni spiegoni all'interno della stagione lo so benissimo però vedere e approfondire un personaggio attraverso i film è molto meglio di vedere alcuni flashback quindi vedremo questa infiltrazione nel Cobra Kai di questo maestro che giustamente quello là non lo conosce e finisce così l'episodio che si infiltra per vedere un po' scoprire cosa si cela dietro e come poter smontare il tutto quindi stiamo a vedere un po' lo so che sono stato un po' vago un po' si è perché vuol essere qualcuno di voi non l'ha visto si sta vedendo il video tanto per per passare il tempo e non voglio rovinagli sinceramente vediamo le prossime puntate fatevi pensare un po' solo la vostra se lo state vedendo se l'avete finito o non l'avete visto se sicuramente tanti youtuber ne avranno già parlato ma io ne parlo perché sono fan di Cobra Kai non per fare visualizzazioni ecco io ne parlo perché mi piace non perché voglio fare i visual detto questo io vi invito a iscrivervi al canale lasciare mi piace e commentare ci vediamo un prossimo video sperando che i prossimi episodi saranno un po' girati un po' meglio e saranno un po' più ciao